Musica Musica Un casono costruito da una guntessa spagnoli in 1843, dove intatta dopo la caserna di Duana. Brutta, tralasciata tutto il lungo di ventesimo secolo, ha principiato al terzo abito, trasformata infine in merita. Era una ruina, siamo in caserna, perché fino all'anno 1920 c'era una gendarmeria, non c'era una famiglia d'Anfranchi. Quindi quando abbiamo detto che c'era un potenziale, abbiamo detto che bisogna ritrovare tutta la gente, che era un indivis, di rimettere un titolo di proprietà d'Ameria. Dopo poi è ritrovata, ma io c'era tutto arrivato. Dopo le domande di solda dritta manca l'Europa, la ZTC, facciamo sboccate, abbiamo fatto qualcosa di più pratico, e soprattutto per non c'è, perché non abbiamo lavorato all'antico, abbiamo un'Ameria che si chiama Meria. e da sopra c'è quattro appartamenti in luogo, come manca il regolamento. Noi abbiamo aiutato le persone a campare, e in più noi abbiamo raggiunto una piccola entrata di soldi che ci serve per altri affari. In da gorsa di aiargare monaciace, pareti i mulini sono sempre riti, ma anche di lasciata l'abandono. Eppur, certi montagni non si t'arrenne a parte. Avaccia Battisti Benedetti non sommistirà la collettività di Gorsica e anche il nostro conto. Ma è stata un'Ameria che si è arrivata da Gorsica? Non, le persone che si è arrivata non c'è la collettività non c'è un lavoro di Gorsica ma non si è arrivata, non c'è un'azienda. non c'è un'azienda qui si è venuta, doveva fare la macchina, dopo a fare una radia, ma è una viola è resta da Russia. Abbiamo pulito qui ruolo, non abbiamo un'azienda, abbiamo un'azienda, abbiamo un'azienda, abbiamo un colpo di brusselle, abbiamo un'azienda, abbiamo un'azienda che si è arrivata da Gorsica non c'è il territorio, e ci sono i nostri patrimoni qui in Gorsica, che si è arrivata da Sarraga, che si è arrivata da Ganscio, è importante di mettere il valore di essere appunto sui patrimoni che per il paese? È ben inteso, è importante soprattutto per i paesiani, per se promenare, per se cacidere, per se fanno... N'importa qui, certi possono avere accesso ai terreni, ai proprietà, ai orti, poi ne passano ai animali, però è un po' importante un po' per i turisti, un po' di gente che vengono da lontana promenasse. Come a Gaserna, c'è il suo patrimonio uno dei progetti maggiori di Monaciada Oudè, principiato da Cianiva. Qui, i luoghi rannutiosi, pieni alla Maggioni e a Matia Tsepp. Tu vois, là, il faudrait revitalizzare. Eh, 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 pianta con il carburio di patenari. Eh, beh, giustamente, per questo. La famiglia Tiador. Alors, évidemment, nous avons sécurisé les murs parce que nous recevons du public et on était bien obligés. Et là, donc, l'eau arrivait par ici. tout au canal et descendait dans le trou. Elle faisait tourner la roue à aubes qui, elle, activait la roue active et la moulette, le blé. Il y a Gubia, voilà, Gubia. Oui, de bello, eh. Et c'est sempre à bord. Comme l'eau, il y a Gubia, pareti à grotte et à pré-historie sont stati retrouvés grâce au casse de son patrimoine, sous l'eau t'attentive de l'orio de Groseto, où il y a l'eau de l'entrata du Pion d'Avretto. Sous-titrage Société Radio-Canada